Io veramente non ci credevo, per molti anni non ci ho mai creduto, non l'ho mai fatto fare i miei pazienti, ma ora da un anno che lo faccio fare, fa li bere acqua calda bollita mezz'ora, venti minuti con dentro un po' di zenzio, di cardamomo, ottiene veramente degli ottimi risultati, quindi più l'acqua viene bollita, più la capacità di entrare nei tessuti, nelle cellule e di legarsi alle sostanze tossiche, portarle fuori, portarle poi a re nel fegato perché vengono eliminate.